La filiera enogastronomica nel territorio nord di Napoli rappresenta un segmento importante per l'economia locale. Noi abbiamo due settori sui quali puntare l'hospitality e l'agroalimentare di Nicchia. Lo ha detto Antonio Tuccillo, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord, aprendo il forum La filiera enogastronomica, opportunità di sviluppo che si è svolto ad Aversa e promosso dai commercialisti. Evento dove si è discusso di come i commercialisti possono dare il proprio contributo alle aziende che decidono di investire nel mercato delle hospitality. La filiera enogastronomica perché certamente è una delle parti più importanti del nostro territorio. Noi abbiamo due settori importanti sui quali puntare, uno è l'hospitality e l'agroalimentare di Nicchia. L'hospitality ovviamente per tutto il settore vacanze, per tutto il settore storico, per tutto il settore dell'ospitalità, del turismo in genere diciamo. E la filiera enogastronomica che interessa le nostre aziende conserviere, le nostre aziende che producono l'agroalimentare di Nicchia, che è un prodotto sempre molto apprezzato, in particolare quello della campagna. Grazie a Dio abbiamo alle spalle tutto quello che è stato il discorso della terra dei fuori, è stato superato tutto. Oggi abbiamo delle aziende che producono in assoluta serietà e con certificazioni adeguate e quindi siamo pronti a raffrontare il mercato sia nazionale che internazionale. L'agricoltura è un settore primario, nel senso fondamentale, per tutte le economie del mondo. Per la campagna, in particolare per il sud, può essere l'unica o tra le uniche leve formidabili per la ripresa dello sviluppo, dell'occupazione e del lavoro. Perché l'agricoltura unitamente al turismo probabilmente sono le uniche risorse importanti che valorizzate e organizzate per bene, con azioni politiche ma anche con azioni legate alla imprenditoria, si possono fare passi in avanti, con le nostre eccellenze agroalimentari, con la nostra viticoltura, vitivinicoltura, la mozzarella, insomma i prodotti della dieta mediterranea, i prodotti della nostra terra, della nostra campagna che possono imporsi a livello nazionale ed internazionale. Finalmente, dopo un po' di peripezie anche in questo territorio, incominciamo a ragionare seriamente su questi temi che sono molto importanti, specialmente per gli imprenditori della zona. Il ruolo del dottore commercialista è necessario perché accanto a imprenditori illuminati che ritengono di fare e di produrre beni di eccellenza, c'è bisogno di essere accompagnati anche da dottori commercialisti e quindi da professionisti che hanno delle specifiche caratteristiche e sono in grado di seguire passo passo tutto il processo che porta poi sempre maggiormente ad avere dei risultati positivi. Noi abbiamo cercato come categoria di avvicinarci a questo settore, quello dell'enogastronomia, la filiera che oggi crea valore aggiunto in tutti i suoi componenti, quindi dal settore primario fino al terziario, al terziario spinto che si muove verso mercati sempre più lontani, ma anche per i consumi in loco, con tutto l'importanza che oggi consumiamo i consumi a chilometro zero, gli agriturismi, tutte le realtà nelle quali la nostra professione generalmente negli anni storicamente è rimasta fuori, ma adesso lo sforzo strategico, le dinamiche competitive sono tali per cui anche i professionisti non possono essere richiamati a queste responsabilità, noi commercialisti iniziare a lavorare con temi a noi noti, quali quello della pianificazione strategica, il business plan, le pianificazioni economiche e finanziarie che assumono un peso importante anche in questo settore dove, dicevo, prima si guardava all'agricoltore esclusivamente come al settore primario, oggi invece si guarda come a un imprenditore a tutto tondo che deve in qualche modo gestire tutte quelle che sono le dinamiche di un'azienda e soprattutto per riportare il valore aggiunto verso gli attori che sono protagonisti di questi esempi. Quindi vedete che grande ruolo potrebbe avere l'agroalimentare?